Fra i tanti misteri della vita e dell'opera di Maupassant c'è il primato di una pluralità che è insieme ricca di sfaccettature e di risvolti inconsueti. Maupassant resta soprattutto nei racconti e nelle novelle, la distinzione si fa dando alle seconde un certo primato anche per la loro estensione, uno scrittore complesso è sempre da riscoprire, l'immagine forse più alta della narrativa francese dopo Flaubert e prima di Proust. Bisogna ricordare come Maupassant stesso avesse piena coscienza di derivare da una costola flaubertiana. C'è una sua dichiarazione esplicita, per sette anni, lo dice in una lettera, cercò di capire come impadronirsi di un'ineccepibile tecnica narrativa, in realtà di uno stile. Sette anni sono molti, ma per i più, ma per Maupassant, trascorsero, ed oggi lo si comprende meglio, in un soffio. E così il decennio tra il 1880 e il 1890, in cui devono stiparsi le migliaia di pagine che ha scritto, ci appare oggi il miracolo di un'arte non appresa soltanto per scrivere, ma per tentare di capirsi fino in fondo. E per primo egli si paragonò a una pianta, una sua lettera dalla Provenza, è eloquente. È vero, sto sbocciando. La primavera che qui trovo nel momento del primo risveglio agita la mia natura di pianta e mi fa produrre quei frutti letterari che sbocciano in me non so come. Gli amici lo paragonarono piuttosto a un toro, un toro normanno, con l'aggiunta dell'espressione di toro triste. Siamo in un'epoca davvero eccezionale per una letteratura già ricca come quella francese. Non solo c'erano nuovi caposcuola, come Zola, ma scrittori della qualità e dell'ardimento di Huismans, dalle doti particolarissime di Daudet, Bourget e Goncourt, per non citarne che alcuni. In definitiva davvero è inconcepibile un uomo continuamente soggetto ad atroci dolori di testa, ad obnubilazioni della vista e ad altre sofferenze diventare un toro nella rena che sfidi un torero. Se si potesse paragonare un grande narratore ad un altro grande, l'unica coincidenza che il narratore normanno possa offrire è quella con Proust. Per entrambi vale la regola dell'apparente dissipazione giovanile e poi di un rifugio definitivo nella scrittura. Altro che, come apparve alla fine del secolo scorso, l'autore di oltre 300 novelle scritte per accontentare tutti i gusti del pubblico. E se si potesse ancora valorare questa idea di uno scrittore nato da Flaubert, che stranamente diventa un predecessore di Proust, ecco una dichiarazione tanto esplicita quanto, per i lettori frettolosi, inconsueta. In una lettera al suo amico Paul Alexis troviamo questa professione di fede. Non credo al naturalismo e al realismo più di quanto creda al romanticismo. Al mio spirito queste parole non vogliono assolutamente dir nulla e servono soltanto a dispute di opposti temperamenti. Siamo originali, qualunque sia il carattere del nostro ingegno, ma non confondiamo l'originalità con la bizzarria. Siamo l'origine di qualche cosa. Che cosa? Mi importa poco, purché sia bella e non si riallaccia a una tradizione spenta. La vera potenza letteraria, il talento e il genio sono nell'interpretazione. La cosa vista passa attraverso lo scrittore e prende il suo colore particolare, la sua forma, la sua ampiezza, le sue conseguenze, secondo la fecondazione del suo spirito. Ma c'è qualcosa di più che egli afferma in modo risoluto. Non è facile stabilire le regole di un'arte, tanto più che ciascun temperamento di scrittore ha bisogno di regole differenti. Credo che per produrre non si debba tanto ragionare, ma si deve guardare molto e pensare a quello che si è visto. Vedere è tutto qui e vedere giusto. Per vedere giusto intendo coi propri occhi e non con quelli dei maestri. L'originalità di un artista si vede dapprima nelle piccole cose e non nelle grandi. Sono stati fatti capolavori con particolari insignificanti su oggetti volgari. Bisogna trovare alle cose un significato che non sia ancora stato scoperto e cercare di esprimerlo in maniera personale. Molti altri scrittori hanno detto e diranno le stesse cose, ma c'è solo Mopassin a sentirle e a tradurle. Non si sa se con più concretezza o sincerità di toni e di risultati. Nella bibliografia critica sull'opera di Mopassin hanno uno straordinario rilievo tre personaggi, ognuno diverso dall'altro, e da ciascuno ci si aspetta un ritratto diverso. Ad esempio, il Mopassin di Harry James, che cinque anni prima della morte dell'autore di Paul et Jeanne, cioè nel 1888, ci ha lasciato un'ampia analisi della sua opera, dando la palma ai racconti e novelle. Essi meritano per lui il primo posto in un'onesta valutazione del suo talento, o meglio ne rappresentano l'originalità. Per James si potrebbe dire che egli ha affrontato i pregiudizi troppo facilmente, perché ha trovato una tradizione di scarso pudore già fatta su misura. È dunque la licenziosità l'aspetto che James mette subito in evidenza. Altra definizione è quella della brutalità, del cinismo. In sostanza il problema della moralità nel romanzo e in genere nella narrativa diventa quasi centrale nell'esame accurato che fa James di quanto conosceva di Mopassin. E in più, tutto è posto in rapporto alla mentalità del lettore medio inglese e delle sue idee sul romanzo, come specchio della propria condotta umana. È singolare, ad esempio, che nel saggio lungo e circostanziato di James, ma anche un sia pur lieve cenno al suo capolavoro, Bull de Swift sarebbe stato il trionfo della prostituzione sulla vita borghese, cosa intollerabile per il pubblico di James. Un altro indizio dell'interesse suscitato dal nostro narratore nel pubblico anglosassole ci viene offerto da Joseph Conrad, che sulle prime, come sappiamo, era incerto se esprimersi in francese o in inglese. A suo giudizio balza in evidenza un modo spietato e insieme gentile di rappresentare i personaggi. E notiamo a Mopassin che quelli femminili, tranne le dovute eccezioni, gentili appaiono solo rare volte, non schernisce i loro prudenti timori e i loro piccoli artifici, non disprezza il loro lavoro. E a me sembra che egli guardi le loro disgrazie, le loro delusioni, le loro miserie, con un occhio di profonda pietà. Egli vede e non volge mai la sua testa. Di lui si può dire che è, come pochi, uno scrittore coraggioso. Non si sa quale sia e dove dovremmo cercare il coraggio in uno scrittore come Mopassin, naturalmente poco indulgente verso tutto ciò che potrebbe indignarlo. Ma è proprio questa mancanza di indignazione, che non ha nulla a che vedere con il naturalismo, a rendere sempre attento lo sguardo del nostro toro normanno, quasi che della vita occorra sempre ricordarsi il prima e il poi, il coraggio e la rassegnazione. E c'è infine il Mopassin di Croce. Oggi reperibile in un saggio di poesia e non poesia. Difidando sempre delle etichette applicate da altri sugli autori, a Croce sembra che Mopassin sia, tra gli scrittori della sua generazione, il vero poeta. Poeta non nell'accezione di chi scrive poesia. Mopassin fu un pessimo scrittore diversi, ma in quella strana di prosa lirica, scambiando forse lo scrittore normanno per un nuovo Baudelaire. Isoliamo questo giudizio dal suo saggio. Le novelle di Mopassin sono novelle liriche, non perché scritte con enfasi e lirismo, ma perché la lirica è veramente intrinseca a configurarsi della narrazione e ne decretano ogni parte, senza miscugli, senza residui. È evidente che la poesia fosse per Croce, ancora prima del suo tardivo accostarsi ai promessi sposi, qualcosa di inafferrabile e indicibile, ma che in ogni caso si può trovare, anzi si viene incontro, e il nostro imbarazzo si accresce. Sarebbero allora tutti i poeti, i grandi narratori? Prima di indicare nel vasto repertorio di casi e di personaggi, quel qualcosa che si avvicina in uno scrittore che sembra esplodere dinanzi ai fatti dell'esistenza, come se ognuno dovesse parlare per tutti? Ecco la vera Pietas Mopassantiana. Vale la pena sottolineare i caratteri salienti della sua impostazione narrativa. E questo emergerà specialmente nelle novelle, alcune delle quali superano le 50 pagine. C'è intanto come in Proust un carattere di autobiografismo segreto o palese che dà rilievo a situazioni e personaggi. Mopassant non tarda ad accorgersi, dopo le prime prove e la clamorosa accoglienza a Bull de Swift e all'Amazon Teilhier, si badi le protagoniste dei due racconti non sono che prostitute, che la sua vita è già materia di romanzo, non nell'accezione comune, ma piuttosto in quella di una auscultazione profonda e continua. E se la scena è popolata di canottieri e di ragazze che li accompagnano nelle isole della Senna, non è tanto per descrivere situazioni personalmente vissute, quanto per innalzare una barriera fra un mondo che gli appartiene e un altro di cui conosce appena le apparenze. Lì, sull'acqua, fra tante gaie e sorprese, può esprimersi per intero il fluire della nostalgia. L'acqua è l'elemento onnipresente, sia esso quello perennemente in moto dell'adorato fiume che l'altro, aperto alla vastità dell'oceano. La fusione è sempre pronta a verificarsi tra l'uomo e l'elemento proprio e naturale. Acqua è intesa anche come disperazione della vita che si svolge altrove, nelle sale da ballo, nei banchetti, nei salotti mondani dove trionfano la galanteria e la menzogna. L'acqua, dunque, è anche tragedia, oltre che incantesimo e volutà. In questo senso, sull'acqua è un racconto significativo, ma dieci altri se ne potrebbero citare. Tanta è la partecipazione, cessato il fuoco delle esperienze giovanili, che nei racconti dove l'acqua trionfa tutto diventa presente agli occhi dello scrittore e in ogni caso sembra quasi che non abbia luogo la nostalgia e perfino un motivo umano ben incomprensibile. Se è stato detto più volte per Chekhov che i sentimenti dei suoi personaggi sono tanto più impetuosi e vibranti quanto più restano sospesi nell'attesa e nel sogno, per Mopassant sarà esattamente il contrario. Già per cui vivono e palpitano le sue creature, si svolge solo nel presente o in un passato che risuscita vivacemente e acquista subito evidenza. Il narratore spia non più i ricordi, ma quanto può accadere, già appena lo sguardo si appunta su un luogo particolare, seguendo la corrente di un'esistenza ferma solo per essere individuata concretamente. Tutto ciò cominciò con la pubblicazione nel 1880 delle Serate di Medan, a questa che indubbiamente resta una delle antologie più importanti dell'Ottocento, presor parte ai migliori discepoli e sostenitori di quel momento di Emile Solà per affermare il nuovo credo naturalista. La rivelazione di questa antologia, così coraggiosa, fu proprio Mopassant. Egli, ora quasi trentenne, aveva già al suo attivo alcune esperienze letterarie. Ma chi garantiva soprattutto per lui era Flaubert, non solo convinto delle doti del suo giovane allievo, ma legato da un'affettuosa e profonda amicizia per almeno due membri della famiglia Mopassant, Laura, la madre di Guy, e il fratello di lei, Alfred Lepotevin, a sua volta discreto poeta e scrittore. Flaubert l'esse per primo e giudicò entusiasticamente Bull de Swift, e ce ne resta una testimonianza critica davvero superba, da che la novella avrebbe dovuto essere inclusa per prima nelle Serate. Non bisogna dimenticare che il sodalizio, or ora accennato, durava da almeno tre anni per la consuetudine dei discepoli, definiti malignamente la coda di Solà, di riunirsi soprattutto in quel paesino sulle rive della Senna, Medan appunto, dove Solà aveva la sua dimora di campagna a pochi chilometri da Parigi. Mopassant descriverà poi con tratti vigorosi quella villa e il paesaggio circostante, dimenticandosi quasi del tutto delle riunioni letterarie che vi si tenevano il giovedì. Quando il volume collettivo apparve, purtroppo Flaubert era morto da pochi giorni, si vide subito che di tutte le storie di guerra raccontate, compresa l'occupazione prussiana della Normandia, ed era ciò che interessava di più Mopassant, Boules de Suif doveva restare il racconto migliore di un'epoca, l'indimenticabile testimonianza di uno scrittore votato alla piena verità dei fatti, che da questo momento fu seguito dal pubblico con crescente ammirazione. Boules de Suif, con la sua inesorabile critica di certe sfere della borghesia ben individuate, senza un'implicita rivalutazione degli strati più umili della società. Non fu che l'inizio di una travolgente carriera che modificò lo stesso concetto di naturalismo, a cui non pensava neppure Mopassant, avendo come unica prospettiva la sola realtà. Sei romanzi, e Bellamy fu quello che superò ogni previsione di vendite, 200 articoli almeno di croniche, uscite nei fogli principali della Francia, 4 volumi di viaggio, ma soprattutto oltre 300 racconti e novelle. Formano quasi un universo in espansione, capace di interpretare ogni aspetto della psicologia umana, ogni sua deviazione o capriccio, guardando interamente all'unico rapporto che stava a cuore all'autore, l'analisi dei fatti nudi e crudi della vita, senza ostentazioni teoriche schopenhaueriane o spenceriane, di moda in quegli anni. Difatti certi biografi non escludono che tranne una conoscenza generica, forse tutto ciò che si impara nelle scuole, Mopassant fosse a digiuno di tutte le teorie in voga nel suo tempo, spiritualismo, simbolismo e tutto sommato anche il positivismo. La sua contrapposizione ad esempio a Zola fu proprio determinata da questo disincanto rispetto alla scienza che stava tanto a cuore all'autore di Germinal. D'altronde egli non ne fa mistero in alcune confidenze private. Nessuno scienziato diventa un vero protagonista delle sue narrazioni. Detto ciò va anche aggiunto che non abbiamo di fronte uno scrittore che si batta per qualcosa, per un'idea o uno scopo morale o politico. Fedele discepolo per questo aspetto di Flaubert non sarebbe mai stato forse al fianco di Zola per una grande questione di giustizia sociale o politica come l'affare Dreyfus. Non lo si immagina nelle sue grandi novelle se non intento a diffidare di tutto. Ce lo dicono i grandi personaggi che incontriamo nelle sue trame, ma anche lo scetticismo con cui egli ne accompagna la sorte o il caso, come a dire basta a tutto ciò che si vuol premettere o sovrapporre allo svolgimento della vita. E questi stessi personaggi non vivono solo nell'ambiente umano di cui fanno parte. Devono infatti quasi sempre sentire il paesaggio, i profumi, i colori, le lusinghe della luce del tempo. Mentre si lasciano andare alle più varie vicessitudini a cui sono indotti o costretti, i loro sensi captano tutto il potenziale avvertimento della natura e dei luoghi. Si è parlato tanto di comunione sempre cercata da Montpassant con l'acqua, che ne abbiamo già accennato. Tuttavia sarà la Senna, alla fine il grande contenitore di ogni strategia amorosa o drammatica dello scrittore normanno. C'è una sua dichiarazione inoppugnabile, in uno struggente racconto della maturità, musca. Come alla semplice buono, è difficile vivere così fra l'ufficio di Parigi e il fiume nei pressi di Argentail. Per dieci anni la mia grande passione unica e esclusiva fu la Senna. Ah, il bel fiume calmo, vario e maleodorante, pieno di miraggi e di immondizie. L'ho amato tanto, credo, perché è stato esso a darmi il senso della vita. Se leggiamo i racconti, e sono tanti, dove la Senna fa da sfondo, comprendiamo che questo amore è tutt'altro che un residuo nostalgico, ma rientra proprio nella cultura umana del nostro autore. Sembrerebbe addirittura che la Senna e le creature che la abitano, solitamente in preda all'ebbrezza, siano, al di là dell'osservazione, la vera corrispondenza psicologica mo passantiana, il perfetto contrario dei salotti, delle galanterie dell'alta società, a cui occorre guardare sempre con diffidenza, se non con astio. Si arriva così semplicemente, e per un'esperienza davvero fatta propria nella scrittura, alla caduta di ideali di ogni genere. Il toro triste, dalla metà del decennio creativo, poteva dirsi consumato dalla sua febbre di successo. Al bellamy mondano e intraprendente, schierato solo dalla parte dei vincitori e delle donne di successo, viene sostituendosi l'autore dei più drammatici e introversi spettatori della propria agonia, in preda a incubi e a soprassalti visionari. Esiteremo solo i principali titoli di questo inesorabile iter narrativo, da La mano, a lui, dalla chioma, alla piccola rock, da La paura, dove interviene il grande amico di Flaubert Turgenev, ospite parigino e interlocutore di Maupassant, a chissà. Il più celebre di tutti questi racconti dell'incubo, però, resta La orla. Non a caso è divenuto presto il termine di paragone per quanto riguarda il periodo terminale dell'attività maupassantiana. Savinio distingue arbitrariamente tra il fotografo di prima e l'ossesso di questa novella. È chiaro che l'idea stessa di essere in balia di qualcuno, che resta tuttavia invisibile, ci dice compiutamente il travaglio ormai irrimediabile di uno scrittore già segnato dal male. Ed ora, tirando le somme, di fronte a un numero così eccezionale di racconti e novelle, sorge istintivamente, come accade alla critica coeva successiva, l'esigenza di distinguerli in gruppi, a secondo del tema o dell'ambiente, e qualche volta contrapponendo il dramma alla commedia, alla catastrofe al lieto fine. Invece occorre sottrarsi a questa tentazione, indicando soltanto quei racconti più aderenti al tema o all'ambiente. Un elenco anche provvisorio ci guida a porre nel giusto rilievo almeno alcuni titoli che riguardano soprattutto l'ambiente normanno o di campagna, dove incontriamo diversi capolavori, da la Casa Tellier a Mademoiselle Fifi, da Ricordo a L'Avventura di Walter Schnaffs, da L'Orfana a Il Premio di Virtù della Signora Husson, da Il Battesimo a Il Barilotto, da mastro amabile alla storia di una ragazza di campagna, che detiene tutto sommato il primo posto, a parte Bull de Swift, in tutta la retrattistica delle povere ragazze di campagna, e non solo di ieri. Senza insistere troppo nelle distinzioni, è perfino evidente che si possono riunire in un unico gruppo i racconti parigini, dove prevale la satira della burocrazia, vera bestia nera di Maupassant. Non dimentichiamo i suoi anni trascorsi da impiegato nei due ministeri della Marina e della Pubblica Istruzione, gli otto argomento per il biografo. I titoli principali, almeno per chi scrive, non possono essere che una scampagnata, la donna di Paul, quel porco di Morin, l'eredità, il più acre forse di tutti, da Collana, il già citato Mosca, per finire con Yvette, che potrebbe dare genialmente filo da torcere a qualsiasi scrittore di suspense. Molto vicini agli ora citati racconti parigini, sono quelli che normalmente si scrivono sotto il segno dell'amore. Da qui interviene subito lo scrupolo della verità. Di amore Maupassant conosceva solo o il prurito passeggero o la passione più travolgente, ma in questo senso andrebbero visti e considerati i titoli più rilevanti. Da Rimpianto a Messier Parain, da Alluma alle sorelle Randolì, un racconto di viaggio dotato di una sorpresa finale di inaudita comicità. Ma torniamo un momento per concludere all'attenzione del soprannaturale dell'ordido, che si riporta forse senza volerlo ai racconti straordinari di Poe. Sarà un antesignano soltanto? Il fatto è che il brivido che i lettori avvertono durante la lettura di un racconto di Poe ha tutt'altro carattere. Allo scrittore normanno non si pensa mai come ad un demiurgo satanico maledetto. Egli è piuttosto un nostro vicino, in preda al più comune sentimento umano, la paura. Dallo sgomento al terrore, dalle allucinazioni agli incubi, Maupassant mira a stravolgere l'idea che tutti ci siamo formati del soprannaturale, che non è più un fatto della mente, ma comprende tutte le emozioni e gli stadi della sensibilità, come la definizione che lui stesso dà dell'orribile. Sì, queste cose sono commoventi, ma non orribili. Orribile, vecchia parola, vuol dire molto più che terribile. Un incidente spaventoso come quello commuove, sconvolge, spaventa, non sgomenta. Per provare l'orrore è necessario qualcosa di più dell'emozione dell'anima e di più dello spettacolo spaventoso di un morto. È necessario un fremito di mistero e una sensazione di spavento anormale, innaturale, l'orribile. Fra tutti i racconti dell'incubo sarà la notte a delineare l'estremo confine della disperazione, che da fisica diventa metafisica, con un assolutismo e un rigore sconosciuti a tutti gli scrittori di fine secolo. Ma in ciascuno di questo tipo di racconti il problema vero non consiste nel verificare i vari gradi di allucinazione e di angoscia, quanto di viverli, travasarli in una scrittura d'utile, espositiva, come si addice all'esposizione di un teorema, tragico e tuttavia sempre geometricamente in sé concluso. Forse è per questo ulteriore sguardo concreto e azzerante che Savinio chiamava in causa l'altro, colui che decide ogni mossa o pensiero, l'altro da cui l'io si lascia dominare totalmente, servando fino in fondo una subliminare coscienza della propria morte. L'unica verità inconfutabile dell'autore di Forte come la morte sta proprio in tale angosciosa consapevolezza. Molti replicherebbero ciò che accadde per un insieme di ragioni non del tutto chiare, ma si dimentica che proprio in questo totale abbandono a se stessi è riposto il segreto della letteratura, un segreto che nessuno dei pochi e veri grandi ha mai chiarito a se stesso. L'atteggiamento di Maupassant nei confronti delle storie che racconta, siano esse folte di allucinazioni o terrori oppure perfettamente racchiuse nella grazia di un aneddoto appena un po' cinico, è generalmente quello di un osservatore disinteressato o di chi si sforza di diventarlo. Ma questo atteggiamento urta molto spesso, si sarebbe tentati di dire sempre, almeno a livello inconscio, contro una concezione negativa della condizione umana, radicata in lui con la stessa violenza di una religione, di una metafisica poetica che contiene in nuce ogni possibile sviluppo di pensiero. Sin dall'inizio del decennio felice egli dichiarava senza mezzi termini che la vita è violenta, sinistra, impastata di infamie, tessuta di egoismi, disseminata di infelicità, senza gioie durevoli, a un unico fine. La morte è sempre minacciosa, la condanna ad ogni nostra speranza. Per viltà ci sforziamo di credere che questa condanna non sia senza appello. Nel conflitto tra quell'apparente disinteresse e questa profonda convinzione risiede il fascino delle sue narrazioni che spregiano tutta la vita pur assendole nello stesso tempo curiose e avide. Di riviani continuo, tra razionale e irrazionale, illustra come in un grafico capriccioso questo conflitto insanabile che ha nella realtà, come nell'esercizio letterario, un unico egito possibile, la follia. Ma anche là dove l'intervento dell'irrazionale, dell'invisibile è totalmente assente, qualche brivido sotterraneo increspa la narrazione dei racconti migliori. Mopassant inizia spesso in sordina, giocando abilmente con tonalità di pastello, tra avvenimenti e circostanze comuni a quelle in cui quotidianamente si trova il suo tipico lettore qualunque. L'io narrante dello scrittore assomiglia a uno di quei garbati compagni di viaggio che ci fanno sembrare meno interminabili le ore trascorse in una vettura ferroviaria. Mopassant è l'esatto opposto di scrittori come Hardy, come Conrad. In questi l'intervento del narratore, come notarono acutamente Foster e poi Carlo Cassola, si limita a generalizzare sulle condizioni in cui gli sembra che si svolga la vita, evitando di proposito qualsiasi annotazione relativa all'intimo dei personaggi singoli. Di più, il commento del narratore è in fondo superfluo in quanto il plot e l'intreccio potrebbe affidarsi unicamente alla forza delle immagini raccontate e ai sentimenti che quelle immagini esprimono. Per altri scrittori, Proust, Musil, Svevo, il commento è essenziale, in quanto le loro narrazioni sono spesso anche saggi, che arricchiscono la nostra comprensione della condizione umana. Il caso di Mopassant è ancora diverso ed è semmai simile a quello di scrittori a lui superiori, penso a Tolstoi, penso a Verga, scrittori che risvegliano la nostra emozione davanti alla vita e la nostra commozione davanti agli uomini. L'identificazione col personaggio, quando non avviene addirittura con un racconto in prima persona, è Mopassant spontanea e diretta, ma spesso inquadrata in una cornice, preceduta da un incipit, in cui quel garbato io narrante, cui si accennava sopra, introduce con calma calcolata l'esposizione della vicenda, che però, persino nei casi in cui ha trovato ispirazione nella cronaca, finisce per rivelare costantemente una componente fantastica, violentemente fantastica, anzi, questa violenta fantasia dirige e regola i sentimenti e le azioni degli uomini, dall'amore all'odio, dalle ossessioni alla semplice passione per la caccia, la pesca o il cannottaggio. Le opinioni tradizionali concordano invece nell'affidarsi a un ritratto di Mopassant scevro di ogni sensibilità della fantasia, limitano l'ampiezza della sua voce ai registri medi di una cronaca meschina, non riconoscono in lui nessuna partecipazione concreta agli avvenimenti che racconta. Per questa interpretazione, per questi pregiudizi, si è fatto intorno a Mopassant quel vuoto di interessi che pian piano si forma ai danni degli scrittori minori, di coloro ai quali non è riservato l'ufficio di ricordarci un'epoca, un costume, perché sono ancora troppo legati agli interessi vivi delle loro convinzioni letterarie, e che d'altro canto sembrano abbastanza passiti perché si possa fare a meno di occuparsi di loro. Escluso in tal modo dalle glorie di una effimera vitalità culturale, come dagli onori di una rappresentanza ufficiale scolastica, soltanto un'ammirazione provinciale o mondana giustifico ormai le ristampe continue delle sue opere. E molti accenti, anche recenti, della critica letteraria poggiano tuttora sulle definizioni tradizionali. Ai libri di Mopassant si uniscono ancora le etichette del naturalismo e del verismo sollazzevole, come se egli operasse esclusivamente dal di fuori, dico fuori da ogni vero significato che non sia puro effetto del divertissement narrativo. Da allora l'unica concessione fatta ai racconti Mopassantiani, dalla parte più retriva della critica francese, è quella di un eccezionale vigore ritrattistico, un'abilità troppo lustra ed evidente per suscitare entusiasmi. Bisognerà aspettare i saggi critici e le prefazioni di Dumasnal per ritrovare un'indicazione precisa delle rivolte interiori che pure vi sono espresse con abbagliante chiarezza, della disperata volontà d'arte e del feroce determinismo. Soltanto Tain un giorno affermò che alcune novelle, precisamente quelle scritte negli ultimi anni di vita, ricordano Eschilo. In generale si arriva a travisare con sorprendente naturalezza anche i tratti di semplici dichiarazioni estetiche. Così quando innocentemente l'autore di Casa Tellier dichiara che l'occhio di uno scrittore è come una pompa che assorbe tutto, come la mano di un ladro sempre al lavoro, tutti vi vogliono scorgere un numero imprecisabile di significati reconditi e polemici. In realtà non è che Mopassant voglia significare con questa frase o altre simili l'assoluta convinzione della necessità di una ispirazione naturalistica. E ci si limita invece a segnalare la volontà di una diuturna osservazione degli uomini e delle cose, la preziosa eredità che Flaubert poteva tramandargli e insieme il gusto della scoperta. Ritrarre le anime umane. Ecco la perpetua difficoltà dell'arte. Questa superata il poeta è più grande. Ritrarre i fatti e i costumi. Questa è difficoltà più estrinseca e meno dura da vincere. Le parole del Tommaseo nella prefazione a fede e bellezza indicano ancora quali fossero la coscienza e il gusto di un'epoca e spiegano il destino minore di Mopassant, la sua fortuna popolare e la sua modesta intenzione di commento alle esistenze più grigie, alle avventure quotidiane. E se i Goncourt respingono con freddo disdegno le sue esperienze non sarà tanto per una questione di stile o di scienza poetica, quanto per gli opposti interessi narrativi. Ma poi, nonostante ogni attenzione, ogni proponimento iniziale, soltanto la psicologia dei personaggi Mopassantiani, così poco ricercata, approfondita, mantiene quei caratteri di umanità che sembrano mancare totalmente altrove. Partito da una posizione di estremo distacco, Mopassant comincia lentamente a prendere gusto al gioco mutevole dei sentimenti durante la composizione dei primi romanzi e arriva, al termine della sua carriera letteraria, una composizione di storie brevi, sempre serrata e coerente, eppure attenta come poche altre, alla suggestione dei moti del cuore più segreti. Flaubert aveva consigliato al giovane discepolo di aprire i suoi occhi chiari e di osservare, con minuziosa attenzione avida di notizie, uomini e cose. Bisogna guardare un fuoco, un albero, diceva, con intensità assoluta, finché non rassomiglino più ad alcun altro albero o ad alcun altro fuoco. Mopassant insisterà ancora nella prefazione a Pierre e Jeanne su questi concetti. Si tratta, diceva Flaubert, di guardare tutto ciò che si vuole esprimere abbastanza a lungo e abbastanza attentamente per scoprire un aspetto che non sia stato veduto né espresso da nessuno. In ogni cosa c'è un aspetto sconosciuto. Qui converrà a notare come il preteso realismo integrale di Mopassant, a Flaubert e a Stendhal si concedono ampi spiragli di libertà inventiva, si riduca, almeno in linea teorica, a poca cosa, a una volontà di indagini, a un'attenzione non casuale in fondo, ma si resta sempre nella sfera primitiva ad una realizzazione artistica nella fase preparatoria, diremo, senza timore di avvicinare troppo il lavoro dello scrittore a qualunque altra fatica manuale. È un narratore ovvio, va giudicato in base ai risultati più diretti, alle emozioni che suscitano già attraverso i programmi spesso imposti dalle mode letterarie. Riveleremo qui ancora una volta come la storia delle lettere e delle arti sia sempre stata mossa da una doppia corrente, una visibile e superficiale, proprio a sommo delle onde, dove agiscono le incerte classificazioni delle scuole, i rigidi gruppi, le momentanee avversioni, ed è corrente tutta spezzettata e vorticosa, l'altra sotterranea continua, che segna invece la direzione senza termini delle idee e dei sentimenti, una corrente dove le forze di apparenza contrastanti operano, contro ogni previsione, nello stesso senso e si continuano a vicenda, si uniscono saldamente. In tal senso realista è un'approssimazione come romantico, una definizione vaga e imprecisa, che non tocca il blocco centrale, fede o passione, della personalità di uno scrittore, o meglio di un uomo. E non che si vogliono tenere in conto eccessivo le preoccupazioni etiche, poiché Mopassin, così lontano da una morale rigidamente cattolica, credeva di risolvere le difficoltà interiori tra cui si dibatteva applicandosi a dipingere la vita come appariva a lui, vuota di ogni grazia, a inventare quei personaggi che erano nati spontaneamente dalla sua esperienza e dalla sua fantasia. La verità è che non si tradisce, non si può tradire la propria vocazione al racconto, al romanzo. Attraverso errori e deviazioni la vera natura di un narratore finisce sempre con l'imporsi. Gli istinti, i fermenti, le grida interiori si traducono immancabilmente in gesti rivelatori, in accenti che illuminano. Resta un problema tuttora aperto a più di una soluzione, quello dei modi, dei tempi e soprattutto dei motivi che determinano non già il passaggio ma la consistenza del Mopassin naturalista, quello già citato, col Mopassin visionario, eseggeta intuitivo dell'apparenza, affascinato e spesso plagiato dalle allucinazioni, nel disperato tentativo di uscire dalla prigione del vissuto, del quotidiano. Nel più recente studio critico dello scrittore, Anne-Marie Baron prospetta in una elegante e suggestiva posfazione la possibilità che la malattia della vista, dilatazione della pupilla, che nel 1883 fece dubitare Mopassin sulla veridicità delle percezioni sensoriali, abbia contribuito notevolmente a mettere in crisi quel famoso principio della realtà su cui tanto aveva insistito l'ossessivo Flaubert. Vengono citate opportunamente le allucinazioni autoscopiche di cui soffre la protagonista di Anne-Vie e un ricordo del fedele cameriere Tassar, secondo il quale questi disturbi visivi lo tormentavano al punto da fargli perdere spesso la nozione dell'io. Sull'argomento sarebbe opportuno aggiungere anche la testimonianza del dottor Landolt che ebbe in cura per oltre tre anni lo scrittore. Questa malattia in apparenza di scarso significato mi fece però prevedere a causa dei turbamenti funzionali che aveva provocato la fine degna di compassione che attendeva fatalmente dieci anni dopo il giovane e valente scrittore che sembrava allora pieno di vigore. Per la Baron dunque la certezza che tutto è falso, tutto è possibile, tutto è opinabile, deriverebbe da quella deformazione visiva e dalla lettura di Schopenhauer, rivelatrice del lavorio delle forze oscure che sfuggono alla vista, allo suono impenetrabile della vita. E il fantastico Mo Passantiano sarebbe contraddistinto da questa particolare concezione del realismo che apre la strada ad ogni smarrimento dei sensi, a ogni fantasia dell'immaginazione. L'ipotesi è senz'altro attendibile ma a mio avviso non esclude quella di un cosciente superamento del realismo. A un sensibile lettore e critico come Mo Passant non potevano essere sfuggite alcune intuizioni dei due scrittori a lui più cari, Flaubert e Baudelaire. In entrambi è chiaramente rivelata la inconciliabilità di arte e mondo borghese, unita al doloroso dovere di assumere questo stesso mondo borghese della volgarità e della brutalità a unico e veritiero tema dell'arte. La letteratura di fine secolo diffonde e divulga questo divorzio e insieme lo riappacifica compromissoriamente entrando, coi suoi prodotti che rappresentano l'antipoesia del mercato, nella circolazione del mercato. A essa spetta tuttavia la funzione di aver reso pubblico e definitivo l'ineludibile contrasto tra scrittori e pubblico, tra artista e destinarario o committente, fra letteratura e società. Posto di fronte alle sole nuove possibilità della letteratura a lui contemporanea, Mo Passant opta inizialmente per una vita assaporata e vissuta all'esaurimento di ogni energia, per poi rimpianzere, ormai minato nel fisico e nello spirito, di non aver saputo rinunciare a tali esperienze e di non essere riuscito a vivere nel puro artificio dell'arte, un'arte che non lo attrae e non lo consola. Trascorro due terzi dell'esistenza ad annoiarmi profondamente e occupo l'altro terzo a scrivere righe che vendo al prezzo più alto possibile, desolandomi di fare questo spaventoso mestiere. Egli è veramente il pessimista più determinato di tutta la letteratura francese. Superare il realismo o naturalismo, se si vuole, doveva essere per Mo Passant una preoccupazione forse inespressa, ma certo costante. In Surlot, breviario di solitudine e di angoscia, non una delle baldanzose affermazioni di fiducia nella realtà viene ribadita o comunque accolta. L'approdo dello scrittore appare sempre più lontano, più insicuro, più irraggiungibile. Le idee degli uomini, le loro idee più alte, più solenni, più rispettate, non sono forse l'irrefutabile prova dell'universale, eterna, indistruttibile e onnipotente stupidità? Fallita l'esperienza esistenziale, poteva rimanere aperta per Mo Passant la via del cattolicesimo diabolico d'un barberì d'Awerville, dello sconcertante misticismo occultista d'un vigliè d'isla d'Adam, ma troppo radicata era la sua avversione contro qualsiasi pur vaga forma di religiosità, perché queste forme di simbolismo cristiano potessero far presa in lui. Non gli restava che il naufragio, pari a tre pari, folle tra i folli, verso la dissoluzione totale della demenza furiosa, nella persuasione definitiva ad essere di troppo, in un mondo ostile in cui persino il suicidio sarebbe stato un fallimento. Per quasi mezzo secolo il fallimento di Mo Passant, la sua tragica fine e la confessione di non sapere e non potere più scrivere, sono state interpretate clinicamente e cinicamente come casuali incidenti di percorso, nella vita di un viver scatenato, eternamente insoddisfatto. Nella coscienza critica dei più, anche Gide, anche Proust lo compresero a metà, egli restava un narratore troppo fortunato, un abile paesaggista di maniera, sensuale e superficiale, un ricercatore di storie sensazionali di poco superiori a quelle raccontate nella stampa popolare, come da noi, la realtà romanzesca della vecchia Domenica del Corriere. Ma sul finire degli anni quaranta, un delizioso saggio di vagazione di Alberto Savinio riuscì a farci vedere per la prima volta il vero volto di Mo Passant e quello del suo inquilino Nero, che l'accompagna sino alla morte prematura e che forse gli detta molti racconti significativi. Perché a noi questo importava dire, e che finora nessuno dei tanti che si sono occupati di Mo Passant aveva detto, che a un certo momento in Mo Passant nacque un altro Mo Passant e che tanta somiglianza era tra il primo e il secondo Mo Passant, quanta tra una città buia e una città illuminata, quanta tra un morto sepolto nella terra e un uomo vivo che naviga sul mare, quanta tra una talpa e un'aquila. In pochissimi scrittori del secolo XIX la componente visiva ha l'importanza determinante che assume nell'opera di Mo Passant. Si direbbe che alla naturale propensione dello scrittore a sottolineare l'aspetto formale e coloristico degli ambienti e dei paesaggi, si sia unita sin dagli anni dell'educazione letteraria sotto la guida sin troppo assidua di Flaubert una sua personale abitudine di opposizione alla tradizione accademica e di continua scoperta delle segrete vibrazioni della natura. È sin troppo facile riscontrare l'ispirazione di molte novelle nella pittura impressionistica di Manet, Pissarro, Renoir, Monet, soprattutto quella ispirata dalla vita en plein air presso le rive della Seine e dell'Oise. E del resto gli assidui rapporti con Cézanne, conosciuto sin dal 1874 in casa di Emile Zola, la presenza degli avvenimenti più importanti per la definitiva affermazione di quel movimento, a cominciare dal trionfo di Leban Boc di Manet e dalla prima esposizione del gruppo presso il fotografo Nadar nell'aprile dell'anno seguente, la frequentazione di altri pittori come Louis Legrand e Henri Gervais rendono quasi ovvia l'influenza della pittura impressionistica su buona parte delle novelle dei due cicli che dettero allo scrittore una prima non effimera notorietà, il ciclo dei racconti ispirati alla campagna normanna e quello delle narrazioni ambientate a Parigi ed intorni. In realtà non si è valutata troppo sinora l'influenza della pittura impressionistica durante il periodo di formazione dello scrittore Maupassant, un'influenza almeno uguale a quella che indubbiamente gli insegnamenti di Flaubert esercitarono sopra di lui. Racconti tra i più seducenti quali o una gita in campagna, per esempio, potevano essere scritti in quel modo se non ci fossero stati in precedenza «La barca» di Auguste Renoir, «La grenouillée» di Claude Monet e nello stesso anno con lo stesso titolo un secondo quadro dello stesso Monet e uno di Auguste Renoir e poi il ponte di Argentel di Claude Monet e nello stesso anno Voting di Edouard Manet e Argentel dello stesso e Battelli ad Argentel di Renoir e il quadro di Monet dello stesso titolo. La fedeltà ad esperienze visive, l'evocazione diretta delle impressioni dell'autore, la comune volontà di opposizione a qualunque tradizione accademica, erano i presupposti estetici in cui maturò e si affermò l'arte di Maupassant. «I miei occhi sono una spugna», dirà lo scrittore, «una spugna che aveva assorbito a perfezione la lezione dell'esperienza pittorica di maggior portata del secolo in cui visse. È invece da valutare ancora l'influenza reciproca intercorsa tra i racconti crudali e fantastici e la pittura di Nabì e dei primi scrittori simbolisti. Maupassant è con ogni probabilità lo scrittore che nella seconda metà dell'Ottocento è stato suggestionato in maggior misura dalla pittura della sua epoca, suggerendo contemporaneamente temi e idee dominanti a quella che si affermò anche dopo la sua morte. La sintesi delle sue convinzioni estetiche è ripetuta in una lettera al signor Vauquer, una piccola frase di sette parole. «Vedere è tutto lì, è vedere giusto». La scrittura Maupassantiana, mentre infastidisce un poco nei suoi tratti tra poco corsivi e nelle volute troppo sapienti, corrotte da un eccesso di bravura, altre volte, più spesso anzi, è di una immediatezza, di una semplicità raffinate ed audace, di cui ci si rende conto soltanto a un esame più attento. Chiamare parlato questo stile, in contrapposizione allo stile visivo dei fratelli de Goncourt, è poco. È gestito, ricalcato dalle mosse dei personaggi, mimato talvolta, eppure sempre sorretto da un calcolato tono discorsivo e cordiale. E tutte le novelle resterebbero un gioco senza conseguenze. Una sterile conversazione dove si placcherebbero anche le accredini, gli improvvisi veleni di un resoconto appena malizioso e pago di siffatta vivezza icastica, se non intervenisse un fermo desiderio di trascendere i dati più immediati del ritratto, del riferimento caustico o pettegolo. Il realismo di Maupassant, e cioè della fedeltà al reale, che egli anteponeva ad ogni altro credo artistico, sarebbe altrimenti una povera posizione spirituale, non certo l'unico attivo, concreto, fondamentale scopo di una esistenza. Purtroppo anche nei racconti del primo Maupassant l'ossessione di dire tutto e di dirlo velocemente lo porta a prolissità, a discordanze, a ripetizioni continue e spesso fastidiose. La scrittura non muta anche nei racconti crudeli e fantastici, si fa semmai più verbosa, ancora più analitica e attenta a particolari a volte insignificanti, sicché non sembra ingiustificato il giudizio abbastanza perfido, che dice che il miglior Maupassant è proprio in definitiva del Flaubert allungato. Che si dicesse questo era forse inevitabile, confrontando i tre racconti scritti dall'uno con i 300 e più usciti dalla penna dell'altro in un periodo temporale così ristretto. Ma Maupassant sembrava preoccupato soltanto di rispettare gli impegni presi con i direttori di giornale e gli editori. In fondo, quel lungo scritto polemico che precede a torto Pierre de Jeanne il più equilibrato dei suoi romanzi è un vero atto d'accusa contro la scrittura artistica e soltanto un uomo vanitoso come Edmond de Goncourt poteva pensare che fosse rivolto contro di lui e provocare la nota polemica a cui Maupassant rispose in modo evasivo. In realtà l'obiettivo di quell'attacco era invece Flaubert, morto otto anni prima. La ribellione del discepolo era cauta, felpata dal rispetto e dall'ipocrisia nello stesso tempo, giustificata dal fatto che il pubblico dei lettori di romanzi all'epoca del secondo impero era costituito da persone di elevata cultura, mentre quello della terza repubblica, quello a cui lo scrittore sacrifica tutto, è formato dalla classe medio-borghese. Un pubblico avido di sensazioni forti e incapace di apprezzare il gusto, la misura, l'eleganza, lo stile appunto. Quello di Maupassant sembra un caso semplice, soprattutto nella sua posizione storicistica. Eppure il fascino di molte sue pagine resta ancora inspiegabile. Egli non cerca di rendere meno convenzionale la realtà per affermarne meglio il significato. Riproduce invece quella realtà con un linguaggio paraletterario, che è proprio il più convenzionale possibile, con la sua ovvia aggettivazione sovrabbondante, la rinuncia a qualsiasi ellissi, le stucchevoli e troppo frequenti iperboli, le continue diminuzioni e attenuazioni semantiche che richiedono al lettore rapide operazioni inverse di corretta integrazione del senso. Quando non descrive paesaggi o il mutare delle stagioni, quando non riesce a raggiungere la secchezza da codice civile che Flaubert poteva suggerire, alle volte Mopassant, diciamolo francamente, scrive piuttosto male. Altre volte farebbe voglia di equipararlo a quegli artigianelli della narrativa che l'editoria popolare compensava con un tot per ogni parola. Prendiamo un esempio tra le migliaia e migliaia possibile da un racconto della maturità, chissè, del 1890. Per descrivere una semplice apertura di porta gli occorrono tre righe. Presi il mazzo di chiave, trovai quella che cercavo, l'infilai nella serratura, la girai due volte e spingendo la porta con forza mandai il battente a sbattere contro la parete. L'ovvietà di almeno due frasi, trovai quella che cercavo, l'infilai nella serratura, è tuttavia un esame più attento, volta alla creazione di un indugio necessario a ritardare la grande sorpresa dei mobili che si spostavano da soli. Diremo dunque che la pretesa prolissità dello scrittore è quasi sempre subordinata a un effetto di costruzione narrativa. A lui interessava maggiormente saper raccontare che raccontare in bello stile. Certo Maupassant ha una scrittura tanto veloce quanto trascurata e perciò a qualsiasi traduttore la tentazione di correggerlo sembra irresistibile. E infatti Gide non smentisce nel giudicarlo il suo aristocratico e abituale disprezzo mascherato da benevoli sorrisi nei confronti di scrittori che hanno ottenuto uno spontaneo successo popolare a lui negato. Così come Simenon riconosce una grande capacità di rendere odori e colori, osserva che i racconti brevi di Maupassant sono ad un mestiere ammirevole, d'una straordinaria abilità di presentazione e d'una lingua molto rara, dove non è chi non possa vedere le limitazioni implicite nel mestiere e nella abilità di presentazione. Quanto poi alla rarità della lingua maupassantiana è vero semmai l'opposto, la capacità di ottenere effetti di rara emotività con i mezzi più semplici e diretti, quelli di chi ammise ho visto l'acqua, sole, nubi, rocce, non posso raccontare altro. No, la grandezza di Maupassant è altrove, è in un senso della durata narrativa distribuita liricamente e non oggettivamente come ci si attenderebbe da uno scrittore del realismo. È nella intuizione che i personaggi, e cioè gli uomini, vivono almeno due vite, quella reale e quella della memoria e immaginazione. È nella partecipazione, ora fervida, ora dolorosa, a entrambe queste vite. Per lui scrivere non è mai atteggiarsi, recitare, esasperare. Scrivere non è una finzione. In solitudine Flaubert aveva scritto «Noi siamo tutti in un deserto». E Maupassant ha accentuato nel complesso della sua opera e in modo particolare nei racconti questo solitario disincanto, questa sfiducia nel cuore dell'uomo. Come per il suo maestro, il naturale pensant per la satira, psicologica o politica, trova sbocchi imprevisti persino nella caricatura. Neva ha dimenticato che il primo pseudonimo scelto dal giovane Guy, quello di Prunier, è in realtà un atto di omaggio verso il signor Prudhomme e il suo creatore, Henri Monier. Da Monier, Maupassant deriva la propensione piuttosto all'umorismo che all'ironia. Per dirla conversant, preferisce affrontare l'esposizione polemica di un ideale, con la consapevolezza pessimistica, che non coinciderà mai con il reale, anziché descrivere il reale fingendo di credere che esso sia ideale. E, come Monier, Maupassant aspira ad essere, senza mai dichiararlo, il testimone della propria epoca. Da Monier, e non dal rigido, rigoroso Flaubert, Maupassant deriva il gusto della battuta fulminante, l'abile costruzione dialogica delle numerose novelle sceneggiate e l'esasperazione di quel tipo di umorismo che in epoca successiva verrà definito noir. Scarsi, invece, i contatti, tranne con il modesto Silvestre, con gli altri scrittori umoristici contemporanei. Per uno strano caso, Maupassant è nato lo stesso anno in cui ha morto Balzac. E se questi, nella sua straordinaria opera di sintesi, poteva davvero compiere il tentativo di affrontare la storia e la critica della società, l'analisi dei suoi mali e la discussione dei suoi principi, nel corpus dell'opera dell'altro, racconti romanzi, commedie e corrispondenze giornalistiche di primissimo ordine, c'è la stessa attenzione alla società, intesa come un infinito organismo animale. L'uno ci dice tutto o quasi sulla vita durante il primo e il secondo impero, l'altro dipinge la gente e i costumi della bella époque nella pessimistica, continua osservazione delle energie umane, nel loro sviluppo e nella loro fatale rovina. Entrambi sono schiavi e padroni dei propri personaggi e se Balzac in punto di morte voleva al suo capezzale il dottor Blanchon, uno dei suoi eroi, Maupassant, nei rari momenti di semi lucidità, durante il ricovero alla clinica del dottor Blanche, chiedeva ossessionatamente di difenderlo da orla che poteva distruggere i piccoli pezzetti di regno piantati nel giardino, i piccoli Maupassant, come insisteva a chiamarli. La conclusione di questa lotta col personaggio o col modello che può averlo ispirato è naturalmente la somma ad ogni possibile narrazione e cioè la recherche di Proust e quella esplicita dichiarazione che l'anticipa. Il libro è il prodotto di un altro io rispetto a quello che manifestiamo nelle nostre abitudini in società e nei nostri vizi. Non sembri dunque eccessivo considerare il corpus dei racconti e delle novelle di Maupassant come l'indispensabile anello di congiunzione tra l'asse Balzac-Flaubert, tra loro complementari, proprio perché tanto diversi, e il capolavoro in cui ha messo in risalto la casualità, la ridicola e iniqua insensatezza e al tempo stesso l'irresistibile potenza, una volta che qualcuno li abbia messi casualmente in moto dei meccanismi che regolano la vita sociale.